pronto si mark sono elisabeth senti avrei bisogno di parlarti si no volevo chiederti scusa per il mio comportamento dell'ultima volta si senti se mangiamo qualcosa insieme si sono l'etuale va bene per le otto e mezza t'aspetto ok ciao ciao marco ciao ciao guarda ma che cosa è che senso sono disperato non ho più niente ma come non è niente in che senso non ho più niente quella mi ha tolto tutto io ero ingegnere costretto a lavorare in un club per guadagnare qualcosa si marca ti capisco posso solo immaginarlo ma ma cosa vuoi capire che neanche le banche mi fanno credito perché fai così ma sei sicuro di amarmi veramente certo perché avevo qualche dubbio me lo devi dimostrare adesso me lo devi solo dimostrare cosa devo dimostrare ancora dopo tutto quello che c'è stato ti farò sapere mi farei sapere ti metterò la prova perché io aiuti economici non te ne darò più stop ma mi devi dimostrare il contrario mi farei sapere e ci credo la gente come te con tutti quei soldi morirà da sola e meno male che mi amare vai vai pure non ti rendi conto di che cosa sono capace di fare te ne accorgerai molto presto